La 186esima fattoria didattica l'ha scoperta oggi qui all'azienda Capizzali? È un'occasione che dà alla legislazione europea e nazionale quella di poter diversificare l'attività agricola, quindi anche attraverso le fattorie o sociali, in questo caso didattiche, per fare appunto didattica, divulgazione, informazione, far conoscere madre terra le sue produzioni e le sue caratteristiche, soprattutto ai giovani, le scuole, ma anche a tutti coloro che vogliono saperne di più delle attività agricole e legate al territorio rurale. In questo caso è collegata un'azienda agricola, collegata all'impresa, all'industria di Mangimi, quindi Mignini, e credo sia anche un bel biglietto da visita che dimostra, sia attraverso la fattoria didattica, ma anche l'allevamento del pollo a terra, che c'è una filiera, quindi c'è la capacità di far vedere concretamente che le produzioni sono di qualità e che ad una mangimistica di qualità può corrispondere anche un allevamento di qualità per riposizionare al centro del nostro agire prima di tutto la salute, cibi di qualità e salvaguarda dell'ambiente. È un riconoscimento importante per sviluppare degli argomenti che sono interessati per la nostra azienda industriale, dove importiamo delle materie prime, dove dobbiamo sviluppare delle razze per l'alimentazione e produrre una carne sana, leale, che rispetta tranquillamente tutti i requisiti delle nostre leggi e della qualità. Questo è importante. E c'è anche l'inaugurazione dell'aula didattica dedicata a sua madre? Certo, certo. Per esempio, noi siamo in un luogo dove ci sono circa 1.500 galline di razza che hanno bisogno di tre mesi per maturare una carne come era importante una volta, non in 30 giorni, assolutamente. Questa è un'iniziativa fatta dalla Mignini e Petrini, recuperando delle razze di galline. Le dirò che è stato difficile recuperarle, però con queste galline abbiamo dei polli di un sapore migliore e ci sarà da alimentarli un mese e mezzo di più, però sono maturi questi polli. Non sono polli che maturano in 30 giorni. Lei capisce al volo cosa significa mangiare un pollo che in 30 giorni matura una carne.